Eh ma questo è il numero di episodio 12 o 13? 13 no Ma fa la 13 no Ok Bella ragazzi qui Fox e benvenuto nel... Benvenuto No l'ho persa Bravo coglione Bella ragazzi qui Fox e benvenuti nel tredicesimo episodio di Minecraft Pocket Edition Stiamo sempre insieme in DanceCactus 25 E non salta? Ok salta No porca È caduto giù Dove è salta? Ragazzi abbiamo aggiunto dei nuovi archivament E cioè più precisamente abbiamo aggiunto Che abbiamo aggiunto? Non abbiamo aggiunto niente Sì allora tre cose Di fare un mob spawner Una rotaia fino al villaggio Ma qui ce l'abbiamo E una farm di animali Con animali si intende tutti animali Ma c'è maiani Polvi Mucche E pecore E questi altri Ci porteranno via Molto 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 Così con gli uomini Domini Dove sta Zappa Do sta maniera c'è stata Io l'ho messa Eh ma non c'è più Va bene È stato il tuo cane Che si è Non so Ah ok abbiamo fatto il gold block Papa Che non si ricordasse Erano rimasti noi Noi appunto i ringotti Di Doro Nella cesta Cesta ci sta qua Nella È infatti una cesta Che mi ha scosta con i diamanti Che tipo appena arrivo Se tu esplode Sai perché Qua Cadono tutti quanti Giù e muoiono Li ho trovati Mentre Cazzo Già Allora commenti i diamanti Cosa ci possiamo fare Quindi il resto Dell'armatura Ma non ce la faremmo Possiamo farci due pantaloni E vediamo un po' Quindi li fai due pantaloni Sette Sono rimasti sei diamanti Sono rimasti sei diamanti No uno ne ho metto io Ce ne mancano due Per fare Per fare gli stivali Allora Cominciamo Cominciamo a fare cosa Facciamo la farm Degli animali Io comincierei a fare Un'altra cosa Il mobospone Perché noi per fare La rotaia Fino al villaggio Molto ferro Dovrei mandare in caverna Quindi Molto oro Molta redson Io vorrei evitare Questa puntata Di andare in caverna Ma aspetta Qua come funzionano Le rotaia Sono quelle d'oro E quelle di Sono quelle di Con la redson Che vanno già da sole Non c'è bisogno Della torcia a fianco Della torcia di redson Quindi sarebbero Quello di là d'oro Sì Vanno da sole Ma prendere anche Un po' di regno Per fare Abbiamo due stack Di voce Quindi da 16 Più uno da 2 Allora Quindi penso Che la forma di voce La si fa facilmente Proprio Sono dormendo E poi come facciamo salire Scusa Con la scala di grass Ma aspetta Noi abbiamo Il tunnel Il tunnel Del nether Che là Si collegava Tipo a una collina Vicina Senti Io direi di non metterle Qua Guarda Da mettere dall'interno Così facciamo prima Passiamo da tutte le altre Dobbiamo mettere Sia da fuori Che da dentro Quindi craftane Altre tre Ma come si crafta Non mi ricordo Mi pare con un paio Di danni E con un paio Noi abbiamo lana Non abbiamo manco Una di lana Una Una Noi sto cercando Una cesta Allora intanto preparo Un buco Per fare la forma Di cosa Un buco Si Ma tu me ne fai 66 Ma Che cazzo ho detto Ma adesso Ma tu me ne fai 66 Me ne fai 66 Non mi ha detto Non mi ha detto Ma quale è il numero Satana Senti Questa registrazione Sì non la cazzatella Oh non ho spaccato La cazzo Oh ecco qua Non ho spaccato Ma io non ho tolto il volume Dai il volume Non la soneria No Ok Eh mo che chiude Stanto non mi riempi La cessa di merda Posso lanciare Le move No Tanto la carica Non serve Sì sì lancia Tutte le move Ne ho lanciate Sei non è nessuna C'era C'era la possibilità Di 1 su 8 No Galoni 8 1 Andiamo Vai così 2 Mamma mia Attenzione Siamo qui 3 Andiamo Dove sarà La perlino Io non la vedo 4 Mamma mia Attenzione ragazzi Attenzione Come andiamo Come va la nostra farm Non mi ricordo 1 2 1 2 5 Bene Sei un grande Ok abbiamo anche la farm Di canne da zucchero Non è finita Ah qua Già fatto Ah è vero Che cosa No Abbiamo la farm Di canne da zucchero È di sportelli Dove sono i sportelli Guarda Qua Sei un malato Mi do le canne da zucchero Ne ho 7 Sono 8 No Stai cadendo da sotto Mi riapri il buco là Poi il buco Colario Chiù Chiù Sono tutti aperti qua Ecco Ah questo Beh Dieni Quello mangi Invece Ok Devi solo metterci L'acqua Tu ho messo pure la cosa sotto Vabbè Qua se hai voglia Di fare altellane Puoi rifare Ripristinare i tavolini Allora Ci mancano Ci mancano 3 animali Per fare la La farm Ora Dobbiamo andare A cercarli Però prima di cercarli Dobbiamo Dormire A parte Dobbiamo anche Dormire No Dobbiamo anche fare Una scala di dirt Per portare l'erba E fare magari Anche un Un ponticello Sicuro Diamanti Poi sei davanti Ti li porti a fare appresso Ma io Se sei dormendo Ti li posso dare Gli oggetti No Oh cazzo Se li sei fottuti Così Allora si Mi li puoi dare Adesso dormi Poi domani mattina Vediamo se ci Così li abbiamo Persi per sé Ce li hai Yes Che figata Che scoperta Vabbè 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 Che però Adesso dovremmo rendere Sicura Perché gli animali E' solo stupidi E' sparita La zappa Non è possibile Che bel cancello Guarda Quanto è bello Stai incazzando Si sta incazzando Qualcuno Ce l'avevo nell'inventario Qualcuno fugge Sei un collino Roba che si piazza a caso Mi mangi una carota Guardami Ma ne ho due Perché ne ho due Di cosa Di cancelletti Non capisco niente Non è cresciuta Adesso dobbiamo fare Decidere qual è il recinto Delle piccore Che farei qua al centro No anzi Sì le pecore Senti io ti dico una cosa Allora il mucco è quello grande Le pecore Diciamolo qua vicino Il maiale qua io lo metterei Io qua mettere le pecore Esatto Quindi devi rompere Ho tagliato Tu ce l'hai la dirt Vero? Sì E la lafri tu E devi cominciare a rompere il pavimento Questo lo rompere Se mi metterò la mano Se mi faccio prima Però non mi rompere sotto i piedi Perché sono da lungo Che cazzo Ho appena detto No 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 Ma se non C'è una mucca Affianca a un creeper Allora uccidi il creeper E prendi la mucca Se esplode la mucca Ho paura Non ci piava il grass Devi fare una scala Devi fare questi propana Quindi mo Colleghiamo questa qui No dico Ci sta un metodo Per fare proprio il grass E sul computer Ti prendi Ti incanti una cosa Col sick Così ti dai il blocco Così come sta Io però ho finito la Oh cazzo Mi so Mi dai altra terra Mi dai altra terra Mi dai altra terra Mi sono andato a prendere la cosa Mi dai altra terra Allora hai preso la mucca Ti hai portata nel recinto Come le faccio? Come le Uccisi il creeper E con il grano Devi fare Eh ho capito Ma la devo andare Oh cazzo la faccio Ti ho fatto la scaletta vicino a qualcosa del nether Di te Mi devi dare un po' di spazio per entrare Qualche la mucca è deficiente Ma come hai fatto a salire di me qua So questa mucca Quello ho visto Devi salire fino a cosa Diciamo al nostro C'è anche una fegola di Ocaro Potrei prendere entrambe E prendi entrambe? Eh ma l'altro è sulla sponda E il creeper mi inseguo ovviamente What? What? Aspetta Me lo vuoi uccide per favore? Sto venendo E' più veloce il creeper della mucca Guarda Ma dove sei? Dove sei? Scendo alla scala dove? Ha senso Poi muovo da una stradina giù Buona C'è per un maiale? No quella è una vecchera Io non so da dove Ma questa mucca è stronza Mi dai un grano Mi dai un pezzo di grano No E' uno Si è pure fatto notte Veramente Ma No no E' l'ombra della struttura No no Si è fatto no Si è pure fatto no Aiuto Aiuto Dove cazzo è la scala? Da Madonna come sono fiera di questa Eh però C'è una No per favore Dove dove? Te l'ho uccido io sulla scala? Sono là Sotto all'alberra Te ne devi andare Perché se no non viene Oh cazzo Dai Porca troia Dai Dai Porca troia dai Dai dove hai il ca... Perché mi guarda a me? Vieni qua Ok me ne vado Ecco Ecco Senza Guarda quest'altro Anzi ti metto dei blocchi per farle in teoria Ho pegghiata Sta rompendo il grano Scappa No Cazzo No Non fa niente Non fa niente Aspetta Ti faccio una scena di scesa qua Farla scendere da qua Vieni Non la fai morire così Madonna ragazzi Vai in fondo Dobbiamo andare Eh ti ho fatto Due blocchi Sai lì per farla salire Dai Ci siamo ormai Vai Dai Dai Eh dai Te devi andare alla Spingila Spingila Oddio non passa Vai Dai Sì È uno Questo video finisce qui Vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare un mi piace Un commento Soprattutto una condivisione per supportarci Da Fox è tutto E anche da Intense Catus Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Bye 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 Sì sì Bellissimo Che episodio epico Non so Che difficile Figurati Maya Allora Voi fare Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti